allora eccoci ancora in diretta c'è l'ultimo blocco ci occupiamo di gossip ci colleghiamo subito con paola aspri ciao paola buon pomeriggio ciao roberta e buon pomeriggio anche ad antonio ma tu lo sai che qui agli studi gusano è venuta pure tua cugina chiara aspri come l'hai vista direttamente dall'argentina veramente un personaggio piena di più viaggia io viaggio con la testa lei viaggia proprio sta sempre in movimento poi è sempre la ricerca dell'anima gemella è vero però io oserei dire che è un po difficile che la trovi perché lei è un uccell di bosco insomma quindi ovviamente allora in comune abbiamo la fioriera allora è senti veniamo a questo questo grande fratello che ci sono state delle uscite clamorose vai diciamo 38esima puntata del grande fratello l'abbiamo vista giovedì e devo dire che nonostante signorini abbia più volte detto ai suoi viponi e anche ovviamente agli utenti di twitter e vari suoi social di essere un po meno volgari nelle esternazioni beh devo dire che il livello del diciamo della puntata si è abbassato notevolmente nel senso che vi poni un po per stanchezza proprio perché non c'è educazione infatti i signorini diciamo nella puntata se le presa soprattutto con edoardo donna maria perché edoardo donna maria cercava in tutti i modi di discolparsi ma in realtà eh diciamo signorini non la non gli ha fatto proferire parola diciamo al di là di questo antonella ovviamente ha cominciato a fare la vittima ma questo vittimismo ha portato bene in realtà devo dire la verità eh il fatto che edoardo donna maria abbia palpeggiato micole incorvaglia che poi uscita ricordiamo dalla casa del grande fratello ecco questa è una cosa che secondo me eh non doveva essere fatta da edoardo non è uscita micole incorvaglia è uscita micole quell'altra no nicole scusami nicole no scusami nicole murgia mi sono sbagliata questa volta mi sono sbagliata io nicole murgia nicole murgia ovviamente è uscita perché eh vabbè con tutto quello che gli hanno fatto diciamo in puntata è normale diciamo che che dovesse essere questa la conclusione però il palpeggiamento da parte di Edoardo è stato inopportuno perché una cosa del genere non va fatta insomma ma da Edoardo si può aspettare questo e quell'altro è la cosiddetta ribellione di una persona un po' eh sottomessa ad Antonella che alza la testa e la alza in maniera sbagliata perché poi abbiamo visto anche in puntata che è arrivato anche il papà di ovviamente di Edoardo Dona Maria Vincenzo che se in un primo momento aveva supportato suo figlio no nella storia con Antonella in tutto quello che faceva all'interno della casa dicendogli bravo in puntata invece gli ha dato addosso ha detto tu hai sbagliato tu parli eh dietro le spalle della gente poi ti fidi dei tuoi ovviamente amici lipponi che invece fanno il loro gioco e ovviamente ti fanno marameo ecco questa è il succo della situazione ma in realtà voglio dire Edoardo continua ad essere bersagliato perché secondo me non gioca bene le sue carte fondamentalmente è un bambino e Antonella ovviamente diventa quella più forte soprattutto agli occhi dei fan no però diciamo che i fan cercano la storia d'amore e in realtà anche oggi è arrivato un aereo dei Donnalisi ovviamente che dice appunto noi ci crediamo avanti con il sogno come per dire noi noi vogliamo rivedere insieme ma in realtà questi due in realtà questi due si parlano e non si sono mai lasciati fondamentalmente però Antonella ha detto chiaramente in questa occasione ho scoperto cos'è l'amore poi ovviamente io e te non ci vedremo più Edoardo rideva sotto i baffi che non ha ovviamente diceva ma ma stai zitta come per dire non è vero quello che stai dicendo noi ci vedremo e come io ho i miei dubbi perché questa è una storia costruita a tavolino mentre quella degli Oriele ci possono essere degli degli aspetti futuri perché Daniele nonostante neghi questa passione che ha nei confronti di Oriana e invece c'è tutta perché chi disdegna compra secondo me e alla fine diciamo che Daniele è fondamentalmente molto attrappato da questa personalità completamente diversa dalla sua che gli sfugge che non riesce a capire facile facilmente e quindi questa cosa lo esalta a tal punto da diciamo da perdere come posso dire il senno e la fantasia a volte no adesso ho fatto un racconto un po così diciamo però la realtà è proprio questa insomma e alla fine poi ci sono state anche degli sviluppi no riguardo alla puntata trentottesima senti la famosa serata del van tu c'hai capito qualcosa che cosa è successo realmente guarda la serata del van sì la serata del van non ne hanno parlato molto bene cioè non ne hanno dei non hanno detto quello che è successo veramente voi sapete che Edoardo e Nicole Murgia sono usciti per andare a votare come gli altri ovviamente e quando sono andati a votare e sono rientrati proprio quella famosa sera in quel van hanno detto delle cose che non dovevano dire che hanno appreso dall'esterno quindi questa cosa sembrerebbe sia stata una cosa che non dovevano fare in più ci sono stati anche delle delle situazioni che non hanno detto in puntata che loro si mettevano d'accordo per fare le votazioni nel famoso van cioè c'era proprio una lavagnetta che poi è stata vista in un video virale mandato in rete da un utente una lavagnetta che loro prendevano e con cui scrivevano i soliti spartani di cui sappiamo i nomi chi dovrebbe essere diciamo votato in puntata quindi questo ecco fondamentalmente c'è questo che poi non è stato ben sviscerato da signorini perché ovviamente non è giusto smiscerarlo insomma o addirittura signorini gli autori perché gli autori che mandano avanti questo programma e gli autori che a questo punto si sono trovati contro anche pier silvio berlusconi perché dico questo perché notizia proprio di ieri che pier silvio non ha mandato in onda la replica sulla 5 di giorno dopo del del grande fratello vip la propria abolita paola la propria abolita la propria abolita quindi la abolita perché ha detto che non ne può più di queste volgarità non ne può più di queste dinamiche volgari però non è che se l'è presa ovviamente con signorini anzi è in accordo con signorini la notizia è proprio questa che è in accordo con signorini ma è contro gli autori sembra esatto sono gli autori aver creato questa questa situazione fondamentalmente troppo volgarità troppe dinamiche che sono più volte tutti i viponi sono stati retarguiti poi lo sappiamo benissimo in puntata però sembra che questa cosa non interessa a nessuno o forse sono gli stessi autori che durante quando non siamo in diretta ovviamente e stimolano gli stessi viponi a creare delle dinamiche abbastanza trash altro che trash oserei dire vabbè molto trash quindi a questo punto è bellissimo ha preso questa questa cosa però io voglio fare una domanda ma qual è il motivo per cui tutti quanti criticano poi questa edizione del grande fratello però poi va avanti ancora più trash di quello che è ma insomma bisognerebbe veramente apportare delle modifiche è vero che manca solo un mese ormai ormai le modifiche non ci sono più da fare però magari sinceramente ci sono delle persone che andrebbero veramente retarguite uno tra questi secondo me è tavassi e adesso mi schiero con sonia bruganelli che anche se è stata cruda in puntata è giusto che l'abbia ripreso perché tavassi fa la differenza perché tavassi è un manipolatore ed è vero questo e quando io mi collego per esempio in qualsiasi momento della giornata sul media settestra vedo che tavassi fungola le persone a fare quello che dice lui sono è il burattinaglio del grande fratello bif questo ragazzo riesce a sofia geledonà a tutte quelle che magari sono meno personalizzate a portarsene dietro ma lo stesso luca onestini quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va tutti quanti dicevano all'inizio che avrebbe vinto tavassi adesso devo dire che non lo so perché come avete visto in puntata è stato molto criticato per il suo atteggiamento e la mamma e la sorella poi hanno redarguito a dovere sonia bruganelli sui social dicendo che non avrebbero non avrebbe dovuto trattare così tavassi perché lui fa il suo gioco e via dicendo è proprio uno stratega si vede proprio c'è la bruganelli aveva ragione quando gli ha detto tu fai il concorrente di reality cioè non c'è da offendersi credo esatto ma infatti ma però il concorrente di reality scusatemi se ve lo dico è brutto a dirsi questa cosa ma cercate di capirla il concorrente dei reality trombato perché all'isola dei famosi l'hanno fondamentalmente fatto fuori anche se anche se lui ha detto che stava male ma poi bisogna vedere se vera sta cosa si è stato male però forse avrebbe potuto ugualmente partecipare è un personaggio che sta in tutti i modi cercando di trovare il reality dove vincere e secondo me lui ci fa affidamento su questa vittoria ma io credo e lo dico che non sarà sicuramente tavassi a vincere ma Antonella Fiordalisi e Oriana Marzoli hanno delle buone possibilità peraltro Oriana Marzoli che le altre volte avevamo parlato male che è una diciamo una gallinella così insomma neanche dalle uova d'oro ma in realtà nell'ultima puntata abbiamo visto che ha preso le difese di Antonella Fiordalisi perché ovviamente ha detto io un ragazzo il mio ragazzo che palpa i seni ad un'altra donna io non ci starei ovviamente ed è adattuato la solidarietà femminile nei confronti di ovviamente di Antonella pur non sopportandola pur dicendo in puntata che loro due non sono mai andati d'accordo però c'è stata una solidarietà e devo dire che Oriana in questo caso ha dimostrato voi per dinamica quello che volete voi comunque ha dimostrato di essere una persona con una certa umanità anche perché poi ci ha avuto tutti contro diciamo tutti gli spartani contro tutto il suo gruppo contro perché lei si è stirata con Antonella e voi sapete molto meglio di me che i spartani sono contro Antonella e Edoardo che fa parte degli spartani più delle volte ha avuto screzzi con Antonella proprio per terze persone e queste terze persone ha un nome e cognome Edoardo Tavassi che lo ha rigirato come un pedalino contro Antonella secondo il mio punto di vista questa è la realtà poi c'è anche un'altra notizia la notizia che in questi giorni Antonella Fiordalisi cosa ha fatto ha detto che ha una sorella l'avete sentita questa cosa ha una sorella che si chiama Maria Antonietta questa sorella è figlia e figlia diciamo della mamma che l'ha avuta con un altro uomo precedentemente e questa ragazza ha voluto vivere insieme al papà non ha voluto vivere insieme diciamo alla nuova famiglia della mamma allora e in questo caso Antonella era rimasta in buoni rapporti fino a cinque anni fa cinque anni fa è successo questo l'ha raccontato ad Andrea Mestrelli e a Davide Donatei diciamo durante una giornata e gli ha detto dice guarda è successo questo però non vi dico perché mia sorella non mi vuole più vedere quindi questo sarà motivo anche di discussione per la trentanovesima puntata questa sorella che diciamo è un fulmino a ciel sereno perché noi non pensavamo che Antonella avessi una sorella e qui si infinisce un'altra dinamica una dinamica che potrebbe essere il fulcro di questa nuova puntata poi 16 ore fa cosa è successo Oriana Marzoli origlia dentro vicino al confessionale perché Daniele stava parlando in confessionale diceva non ho nessun stimolo a stare in questo programma perché questo programma non lo vince uno come me lo vince una come Oriana io non voglio stare con lei ma devo starci per forza perché se no lei si mette nel letto e piange e fa la vittima allora io vorrei dire un'altra cosa adesso sono d'accordo con Oriana che parlando con Antonella ha detto io non capisco perché questo ragazzo viene al grande fratello fratello Rippe per poi ovviamente dire no questo non mi piace non voglio fare le clip e poi si arrabbia per qualsiasi cosa ma allora che ci sei venuto a fare e anch'io sono d'accordo perché se uno fa un reality non può continuamente dire questo non va bene questo non va bene ha un po' scocciato Daniele ha un po' scocciato perché insomma sinceramente prima dice una cosa poi si riavvicina a Oriana poi è seriamente preso da Oriana ma molto di più di Edoardo Donna Maria nei confronti di Antonella c'è una differenza enorme Paola ma l'altro opinionista Orietta come la vedi tu? Beh Orietta è migliorata certo non si deve sincronizzare un po' meglio con diciamo i momenti della casa a fare il controcanto con no no perché si deve sincronizzare meglio nei momenti della casa perché l'altro giorno parlava di Nikita Pelizzone non c'entrava niente si stava parlando di Antonella Fiordalisi e lei se l'è uscita con un'altra cosa poi alla fine ovviamente era pertinente anche quella cosa però diciamo che è il controcanto come hai detto te di di Sonia Bruganelli che invece ha i suoi preferiti no Antonella Fiordalisi invece invece Orietta Berti ha Luca Onestini come preferito che peraltro se vogliamo vogliamo dirla tutta Luca Onestini quando c'è Ivana la sua ex fidanzata è migliora di gran lunga solo che Ivana adesso se n'è andata ecco come l'ha vista questa cacciata senza neanche poter salutare gli altri beh io l'ho vista come una strategia da parte degli autori perché hanno voluto spiattare Luca Onestini allora forse avrebbero voluto rubare a Luca Onestini la promessa di un ritorno insieme a Ivana che in realtà non c'è stato perché signorini gliel'ha detto no ma ritornerete insieme e lui ha detto ma io non ho niente in contrario però dovremmo deciderlo fuori da qui quindi e poi lo ha ribadito in questa giornata dicendo agli altri lipponi che è stato molto contento dell'entrata di Ivana che loro si sono ritrovati peraltro erano un anno e mezzo che non si vedevano più per robbi motivi si erano lasciati anche un po in malo modo e adesso c'è l'occasione di rinsaldare questo rapporto però sia lui che lei non è che hanno dato delle certezze capito hanno lasciato un po così la cosa in sosteso e chissà se si rimetteranno insieme io dico chissà perché bisogna sempre pensare che queste reunion di coppie sono fatte anche per creare clamore per creare notizie dinamiche insomma senti ma sarà altobelli adesso che se ne ritornata a bari farà amicizia con attiglio romica oppure no secondo me assolutamente no perché attiglio si è rimesso come in muta l'abbiamo visto anche in puntata poi ringalluzzito ringalluzzito ma io gli darei anche un consiglio no cioè a sarà alto bello perché peraltro volevo spendere una lancia in favore di Sara perché a me è molto simpatica il suo essere svampita è un qualcosa che è completamente diverso dal solito le solite che stanno là dentro e secondo me non lo è svampita manco per niente è una persona col sale in zucca e gioca un ruolo che è quello che gli si addice meglio e lo gioco abbastanza bene secondo me forse farà un pensierino su quel famoso toni il suo è quell'anello i fiori esatto il manager innamorato di ricordiamo il cavallo davanti alla porta rossa del grande fratello esatto il diciamo l'uomo convinto che possa conquistare questa donna alta poi peraltro rispetto a lui però insomma devo dire che forse alla fine scederà perché toni fondamentalmente è un uomo molto buono è un uomo che la sa capire è un uomo che la sa comprendere soprattutto diciamo la gestisce in maniera sua quindi sicura sicuramente potrebbe unire l'utile al dilottevole secondo me nel senso un manager una persona che la che gli cura gli interessi e poi sarà sarà è divertente e mi è anche dispiaciuto che ha lasciato la casa perché lei ha un senso mentre adesso devo dire la mia anche se io conosco milena miconi e per me è una persona eccezionale all'interno della casa però non sta risaltando come dovrebbe perché perché lei che vuole fare quel ruolo lì quello della donna che sta ai fornelli ma perché milena non è un po over come età scusa paola over vuol dire ovviamente più grande ma non per questo è una colpa insomma no è più grande rispetto alla media di tavassi di micol dovrebbe mettersi in gioco in un'altra maniera ecco questo voglio dire nel senso quel tipo di realtà della mamma della finta mamma quella che accudisce tutti poi posso dire quegli scapestrati che non mettono a posto niente ma no ma basta questo ruolo lo hanno avuto in passato anche altre donne che sono entrate lì nella casa matilde brandi manila razzaro no cambiate modo comportamentale all'interno della casa cercate di fare anche le fan fatale anche se avete più anni perché milena miconi è una donna molto affascinante e non ha niente a che vedere con quelle quattro sgallettate che stanno là dentro se vuole milena se ne mangia tutte ma perché fare la parte della casalinga scusatemi ma con tutto il rispetto per le casalinghe ma non ce n'è non c'è modo c'è togliti da quel ruolo di stare sempre tornelli di fare sempre la pizza cioè siamo non lo so dovrebbe porsi in modo diverso dici tu sì è un modo diverso secondo me bisognerebbe cambiare un po un po ruolo tant'è che fino a due puntate fa signorini non gli aveva dato proprio conto a milena miconi poi ha creato quella farza perché così si può dire di milena riconi che era contesa tra antonino spinal bese e andrea maestrelli forse quella come dici tu è creato un po ad arte si creato ad arte creato delle dinamiche che secondo me non hanno motivo di esistere io la milena che conosco al di fuori del grande fratello non l'ho vista all'interno della casa deve uscire fuori ancora un mese milena miconi la facessi facessi uscire fuori la vera la sua vera personalità perché fino adesso non l'ho vista in questo è stata superata da sarah altobello che pur essendo anche lei di un'età è riuscita con un ruolo della svampita ad essere credibile ed essere divertente infatti mi ha distresuto che se n'è andata perché ha tolto un po' quella quella lur di spensieratezza che poi questi ragazzi sono tanto tristi alla fine non è che poi sono tanto divertenti diciamola tutta hanno delle pecche enormi hai ripreso un filo rosso paula praticamente ti ricordi quando signorini ha spedito la tata per pulire insomma ecco forse questa cosa si incastona lì forse questa questa specie di disobbedienza chiamiamola così da parte di quelli della casa e di quelli un po più svelti svegli no inizia da lì da allora insomma e finisce con con tavassi che stacca io credo che quello è quello è proprio lui l'ha confessato ho staccato il jack praticamente del microfono forse quello sarebbe sarebbe stato da punire con con la cacciata insomma immediata credo io forse al livello di regolamento sì ma non gli interessa punirlo per il semplice fatto che si crea delle dinamiche infatti ricordiamoci anche che tavassi aveva un conto in sospeso anche con ricordiamolo con romita quando è uscito romita è uscito ma romita è uscito che ce l'aveva sia con tavassi che con edoardo ricordiamolo è uscito senza salutare nessuno ma un po ragione perché scusa mi romita era è un grande giornalista diciamo e stava creando un format all'interno del gf per divertimento è che era funzionale no in un certo senso faceva divertire questo format poi è stato è preso da tavassi gli è è stato rubato sotto gli occhi quindi lui è rimasto male e quindi in questo è stato dittatore dittatoriale despota e ha manipolato le persone a suo modo tavassi è un manipolatore ha ragione sonia io all'inizio non l'avevo capito pensavo che era il ragazzo divertente che voleva far gire peraltro micolin corvania alla sua compagna perché ormai stanno insieme ha detto dopo la fine della puntata che lei se ne voleva andare avete visto non se n'è andata perché non c'è nessun interesse ad andartene pure quella lì è un'altra che sta cercando un modo per emergere si è messa vicino a ovviamente tavassi che il manipolatore per eccellenza e ovviamente fa la compagna del manipolatore quindi creano delle dinamiche ad arte e poi il leader vorrebbe fare il leader a partire da quel fatto quello che hai detto tu con con attilio no sì ma è il leader a tutti gli effetti oltretutto è anche cattivello li ha tolto proprio lo scettro ad attilio diciamolo diciamolo pure la cosa si la tratta ma nell'ultima puntata abbiamo visto che davide donate donadei gli è arrivato un twitter hai visto da parte di chiara rabbi che era la sua ex che un cui che aveva un conto in sospeso con lui per un tradimento ovviamente la cosa è passata sotto traccia mentre edoardo edoardo tavassi poi dopo la puntata gli ha detto ma come mai ma cos'era quel tito tweet che voleva dire e lo provocava e lo provocava alla fine davide ha sbottato ha sbottato in maniera tale che c'è stato un veramente eh passato dalla parte del torto davide perché gli ha urlato contro a edoardo ha detto fatti i cavoli tuoi queste sono cose mie e poi ovviamente signorini in puntata l'ha riportata questa cosa di questo screzzo giovedì e ha detto chiaramente che insomma si poteva evitare questa cosa perché è stata abbastanza insomma alla fine la colpa è stata di davide non non certamente di tavassi che invece l'ha fatto appositamente voleva creare uno screzzo perché davide donadei aveva permesso di dirsi di dire contro edoardo donna maria che aveva fatto male a fare quella avere quell'atteggiamento del palpeggiamento nei confronti di eh la morgia e ovviamente lui per prendere le difese dell'amico lo ha provocato a dovere ecco con quella cosa succhiava bene grazie paola grazie per questo escursus all'interno del grande fratello come sempre molto dettagliato denso di particolari anche retroscenista nel senso che ci dice anche quello che non riusciamo a vedere in onda viste le due informazioni che riesce ad avere sui social dappertutto insomma per poi darci un quadro completo e preciso grazie paola aspri ci vediamo la prossima puntata lunedì e poi dopo nebbè anche quella quarantesima quindi parleremo poi di queste due puntate e vedremo faremo la summa di di tutte le cose che succederanno manca pochissimo neanche un mese quindi bene gli sgoccioli da tanto dopo parte l'isola quindi finiamo una cosa andiamo dopo l'isola che abbiamo non ti dico che personaggi che staff bene grazie paola aspri grazie alla prossima settimana ciao paola allora ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito fino ad adesso ringrazio il nostro opinionista antonio arabia alla regia alessio d'ancora e samuel maiolatesi e redazione oggi abbiamo avuto il nostro coordinatore tommaso franchi ringraziamo anche la stampa che ci segue sempre con grande affetto perché non abbiamo fatto in tempo a finire comunicati già li stanno diciamo diffondendo anche gli altri giornali primi se agen press e poi tanti altri che insomma non ho il conto esatto ma tommaso mi mandava la lista che stanno continuando a diffondere le notizie prese all'interno del nostro salotto io vi aspetto lunedì radio in diretta dalle 8 alle 10 con gianluca fabbi italia sedesta programma il radio visione è possibile vederci anche sul 264 approfondimento politico quotidiano una bella alzataccia ma densa di significate soprattutto confortata dal vostro aspetto perché arrivano tantissime telefonate tra l'altro italia sedesta è una trasmissione di ideata da gianluca fabbi tanti anni alle spalle e quindi sono onorata di partecipare a con lui a questo a questo programma noi ci vediamo venerdì 21 e 30 mezzanotte e mezza con italia città aperta anche lì la stampa ha avuto ci sta seguendo tantissimo e poi dritti appunto ogni sabato buon fine settimana a tutti riposatevi se riuscite io cercherò di farlo grazie per l'affetto di sempre alla prossima grazie a tutti Grazie.